Sa fin troppo bene come manipolare il popolo. Marco Aurelio nutriva un sogno che era Roma, Proximo. Ma non è questo! Non è questo! Marco Aurelio è morto, Massimo. Noi mortali non siamo che ombre e polvere. Ombre e polvere, Massimo! 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 Lo accolgono come se fosse uno di loro. Il popolo è volubile, fratello. Sarà dimenticato fra un mese. Massimo! 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 No! Molto prima di un mese. È stato tutto organizzato. Massimo! 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 Ave Cesare, morituri! Te salutati! Ave Cesare, la sua… Ave Cesare, ha l'escrizione! Ave Cesare! Ave Cesare, ave Cesare, avelei le persone! Ave Cesare, noi siamo arrivati! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.